Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio. Io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13 entriamo, come sempre facciamo in apertura nei mercati finanziari, anche con qualche dato macroeconomico che è stato pubblicato questa mattina, per esempio dall'Italia la produzione industriale in marzo su base annuale è in calo, abbiamo meno 3,5%, il precedente era meno 3,1%, abbiamo anche la produzione industriale in Gran Bretagna che ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e poi dalla Gran Bretagna abbiamo anche il PIL che sale oltre le attese. Altra notizia della Gran Bretagna, nel senso ieri c'è stata la riunione della Bank of England, in realtà come da attese del mercato la banca centrale britannica ha deciso di lasciare invariati i tassi, cosa ci ha detto che insomma anche lì si aspetta un po' più che l'inflazione si diriga verso il target del 2%. Intanto Piazza Affari sembra che stia accogliendo bene la nuova ondata di trimestrali che è arrivata, per esempio l'Enel è arrivata ieri a mercati chiusi, a Mediobanca, a Iveco di questa mattina, insomma Fuzzimib in questo momento guadagna l'1,03 ma do subito la parola al mio ospite Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim, trader e formatore per fare un po' il punto della situazione. Buongiorno Cartisano. Buongiorno dottoressa Donghi, un caro saluto a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora, da dove vuole partire? Dalle trimestrali, dalle banche centrali, da dove? Ma no, va benissimo partire magari dalla Banco Vingland perché comunque per la prima volta non c'è stata una decisione unanime, sono stati 7 voti a favore per il mantenimento del tasso a livello precedente e due contrari. In realtà il dato macro che mi ha stupito di più nella giornata ODM è proprio quello relativo al PIL inglese perché se guardiamo il PIL mensile, se guardiamo il PIL trimestrale, se guardiamo il PIL annuale, sono tutti e tre usciti decisamente migliori delle stime e questo è sicuramente un dato abbastanza sorprendente perché l'economia UK era quella forse più in difficoltà nell'area geografica Euro insieme a quella della Germania. Tornando invece alle trimestrali, sicuramente è stata molto ben apprezzata quella di Enel che però dal mio punto di vista rimane ancora zavorrata da questo debito che proprio non riesce a ridurre perché siamo sempre oltre i 60 miliardi di Euro. Sta andando molto bene anche Iveco che a onor del vero ha una classificazione per il proprio bilancio che lascia purtroppo gli investitori nonostante oggi stia salendo molto. Non ha fatto prezzo in apertura giusto Iveco oggi e poi ha aperto a più 6. Sì, è stata sospesa, non ha fatto prezzo di apertura, quindi è stata ammessa poi dopo l'orario canonico delle 9 perché c'è questo minuto random in cui i titoli aprono mentre Iveco ha aperto leggermente più tardi, però nella fattispecie alle 9.06. Però l'aspetto a mio avviso che andrebbe migliorato è quello della comunicazione dei dati perché se guardiamo, sono tecnicismi e mi faccia chiedere, perdono ai suoi radioascoltatori, le metriche finanziarie, quelle EU-IFRS l'utile è di soli 22 milioni in tre mesi, quelle non EU-IFRS è di 153 milioni, per cui comunque non era neanche facile capire la situazione quale fosse nonostante poi il mercato abbia apprezzato. In questo contesto però c'è una delle storie più tristi alle quali ho assistito nella mia vita e sono oltre 20 anni che faccio questo mestiere che è l'andamento di una mid cap che sta rischiando di diventare un ex mid cap che è banca Pharma Factoring. Ieri non è riuscita a fare prezzo in asta finale, è stata sospesa alle 13.52 a un prezzo di 10.96, questa mattina ha riaperto direttamente a 7.79 e mezzo e in questo momento è sospesa dalle 9.34 con un teorico adesso di 6,4. Cosa è successo su questo titolo? I dati sono stati indubbiamente abbastanza valutenti a tutto il mercato a timore dei rilievi da parte di Banca d'Italia sulla classificazione dei crediti pubblici e sulla remunerazione dei dirigenti. Mi sembra una reazione eccessiva però ecco questo per dire che purtroppo non è tutto oro quello che luccica perché situazioni del genere sono per un investitore imparabili perché quando un titolo ti perde da asta ad asta oltre il 30% tu nell'ipotesi migliore accetti di perdere poco più del 30% già adesso sarebbe più del 40%. Chiarissimo. Questo è un po' un caso limite ma andava indubbiamente citato. Sì 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 assolutamente poi vabbè un'ultima battuta Cartisano è vero cioè lei è d'accordo con quegli analisti che sostengono che potrebbe esserci maggior ottimismo rispetto alle decisioni della Fed visto che per esempio ieri sono stati sono emersi dati sulle richieste di sussidi per la disoccupazione superiore alle attese no? Quindi cosa vuol dire? Che il mercato del lavoro evidentemente ha bisogno di sostegno e secondo qualcuno si sarebbe rafforzata la speranza di una discesa dei tassi Fed che invece era stata un po' allontanata. Insomma questi dati potranno contribuire a un cambio di rotta o a un'accelerazione insomma nell'allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Americana? Questo sicuramente sì anche se io sono dalla parte della battaglia che sta combattendo Zero Edge che definisce attualmente l'economia americana una Bidenomics dove probabilmente soprattutto sulle richieste di sussidi di disoccupazione continue c'è sicuramente più di un dubbio perché sono in 100 mila unità da agosto il range più o meno 1.750.000 1.850.000 quando sappiamo benissimo che le maggiori aziende americane hanno licenziato centinaia di migliaia di dipendenti quindi diciamo che è vero che i dati macro brutti possono e quelli sulla disoccupazione sono tra i più guardati spingere la Fed ad anticipare un taglio dei tassi però è anche vero che la bellissima crescita economica degli Stati Uniti come ho già detto in altre occasioni negli interventi sul giornale radio è alimentata dal debito pubblico americano principalmente dalla spesa pubblica americana quindi in realtà siamo sempre su un filo sottile io credo che la Federal Reserve dovrebbe comunque tagliare prima di quanto ha intenzione di farlo però l'unica certezza anche se in finanza non ci sono mai in questo momento è che probabilmente a giugno sarà la BCE a tagliare per prima esatto e peraltro oggi abbiamo anche la pubblicazione delle minute dell'ultima riunione BCE e leggeremo insomma quello che emergerà anche se poi ho un po' un repilogo di quello che è emerso nella riunione grazie Andrea Cartisano, Giotto Cellino, SimTrader e formatore Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donchi Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio